Sì, sono Tadei Piuc, vengo dall'Italia, da Tarvisio, Camporosso proprio il paesino, è un piccolo paese al confine tra Austria e Slovenia, no, terza volta, perché è la più bella gara che c'è, io dico sempre, bisogna provare a venire a correrla, il pubblico, proprio come la senti, è sempre con la pelle d'oca, sempre, tutti i minuti qua a Zegama, è fantastica per me, sono riuscito a vincere e non avrei mai pensato, mai creduto con tutti i campioni che c'erano, Kylian è appena tornato dal Nepal e non stava tanto bene magari oggi, ma come ho già detto prima anche ad altre televisioni, di campione ce n'è sempre uno, nell'anno, il campione è Kylian, gli altri siamo bravi ma il campione è lui, non possono esserci due, tre campioni, uno è il campione, gli altri sono secondo, terzo e così, è sempre il campione, finché qualcuno lo batte ma lo deve battere quando sta bene, no, quando non sta bene, se non è come dire andare in chiesa e prendere i soldi, è facile, lavoro sull'impianto di risalita, sulle funivie, lontagna sempre sì, il tempo è sempre poco per allenarsi, bisognerebbe averne un po' di più per provare a competere anche con questi forti, per quello dico vincere oggi per me è eccezionale, sì, d'inverno faccio scelpinismo quindi va bene, io mi alleno inverno scelpinismo, estate corsa e la mia forma è sempre lì, non va, non è su e giù, è sempre lì, oggi non me lo aspettavo neanch'io così bene, mi piacciono tutte e due, non c'è una che preferisco, sci alpinismo è bello perché quando arrivi in cima alla montagna scendi con gli sci veloce, quella è l'unica variante, ma al resto la montagna mi piace in generale. Sì, eravamo un bel gruppo, eravamo 5-6, certe volte anche in 7 e secondo me siamo partiti a un buon ritmo ma non elevatissimo, che mi ha permesso appunto di, io vengo fuori poi con la distanza, più è distanza meglio vado e in cima siamo arrivati in 4 e ho detto, sono qua a Zegama, ho detto vengo dall'Italia, provo a spingere tutto quello che arrivo in discesa e vediamo se arrivo a staccare gli altri. Ho spinto e ho visto che riuscivo a fare un po' di buco, allora ho detto no no adesso gas 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 fino a Zegama e sono arrivato a Zegama primo. Io non, è la primera gara quest'anno di corsa, non è che ho pianificato niente, si vede stavo oggi proprio bene e sono riuscito a vincerla. No no, l'inizio non era male, gli ultimi 8 km proprio alla morte. Ah mi alleno o la mattina prima delle 8, prima del lavoro o la sera dopo alle 5. O prima o dopo, certe volte faccio anche due allenamenti, più dopo ancora lavorare 8 ore. Il migliore quest'anno ho vinto la Mountain Attack, che c'erano tutti, c'era Lenzi, Bombardion, tutti più forti e sono riuscito a vincerla. Ah quella di oggi, Zegama, vincere Zegama una volta capita nella vita. Ah io parlo sempre bene di Zegama e dico bisogna andare a Zegama, vedere un po' la gente che c'è e dopo torni. Io ho tre anni e tre anni sono venuto. L'altro anno ho fatto nono, nono e due anni fa terzero, due anni indietro.